allora siamo nel cinquecento napoletano e non siamo veramente all'inero per favore pure che io so fare delle cose un omaggio a peppe barra pezzo cantato in suo stile poi si allora questo è il cinquecento napoletano parliamo di una tamurriata è un pezzo di gianfrancesco maria battista giovanni uballo piscione autore famosissimo a cavallo tra il cinquecento e il grazie maestro grazie mille dei cuori allora questo pezzo è un tamurriata del dolore non peppe barra non l'ha valuta fatto schifo questo pezzo a peppe barra e allora l'ha cantato un altro amico peppe mondicelli chi è un po' simile a peppe barra però diciamo non ha il suo spessore però pure noi barra però canto un po' come lo vuole peppe mondicelli vuole un po' comitare a peppe barra vabbè comunque questo pezzo è un pezzo di piscione ma è più barra è il nostro inizio di piscione però la verità io volessi non volessi senderio volessi senderio questo pezzo di piscione volessi senderio insomma alla fine ho detto no peppe non so che ti piacerebbe sentire questo pezzo ma il pezzo lo faccio e quindi giordano esposito signori in tamurriata del dolore una persona alla quale hanno rubato un oggetto sacro per noi napoletani fin dal cinquecento seicento sette e dieci eccetera adesso diamo il tempo facciamo proprio la tamurriata guardate il tempo della tamurriata che è questo ecco vediamo questa atmosfera per una ventina di minuti e poi l'entrò a cantare ecco no continuo bravo guarda non ha capicazzo per ragione attento non è che uno fa da amurriata così giordano in generale così giordano in generale la grassi pubbagnosi bravo giordano bravo giordano esposito musicista dell'orchestra italiana questa sera andy warhol andy warhol ben lì ben lì venite voi con un po' chi lo piace ok vabbè forse è meglio cessa 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 pure tu no no che dici a solo se volevo dire cessa vai perbo basta ok thank you to the andy ok 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Giordano Esposito.